ho frequentato liceo delle scienze umane a indirizzo economico sociale a bollate mi sono trovata bene a me sono piaciute molto le materie di indirizzo quindi le scienze umane però devo dire che a livello di orientamento di suggerimento per il futuro praticamente non ne abbiamo ricevuto quindi diciamo che poi quando è arrivato il momento mi sono informata io in modo autonomo seguendo quelli che erano un po' i miei interessi io sapevo semplicemente che mi piacevano comunque rimanere nelle materie umanistiche non avevo deciso una cosa precisa però ho fatto un po di test quindi ho provato scienze ed educazione in bicocca ho provato psicologia in bicocca poi mi ero anche fatta il test degli studi umanistici della statale e quindi quello che comprende filosofia letteratura beni culturali insomma quel ramo lì poi andando i vari open day visitando le varie università sono venuta conoscenza anche della facoltà di scienze dell'educazione di cui io non sapevo l'esistenza poi anche grazie a conoscenze personali sono venuta anche conoscenza più a livello pratico di cosa facesse l'educatore e mi sono interessata appunto a questa facoltà alla fine ho deciso di scrivermi e in realtà da subito dal primo semestre mi è piaciuta tantissimo quindi poi ero contenta di dove ero andata però ecco io non avevo per niente le idee chiare ecco quando sono uscita dal liceo secondo me è un corso di studi che comunque ti dà bella flessibilità perché i corsi non sono d'obbligo di frequenza quindi se magari hai degli altri impegni o hai necessità di fare un lavoro nel frattempo secondo me ce la fai è fattibile le materie sono molto varie però sono tutte diciamo improntate sulla pedagogia filosofia anche un po di psicologia questi comunque sono i rami che che prende questa questa facoltà diciamo deve sicuramente interessarti in tutto quello che riguarda l'uomo nel suo essere sociale nei contesti educativi e poi la trovo anche molto pratica come facoltà perché comunque sia un tirocinio obbligatorio che ti permette poi di entrare nella professione ed è un tirocinio obbligatorio anche che è molto seguito che prima di farlo c'è anche una preparazione molto buona con dei tutor con dei gruppi dove si entra un po nel vivo all'inizio ho bisogno di capire come funzionasse l'università essendo completamente diversa dal liceo non c'è nessuno che ti obbliga ad andare a lezione non hai degli orari precisi a volte le lezioni sono alle ozze del mattino altre volte sono alle tre del pomeriggio quindi comunque bisogna un attimo ambientarsi una volta fatto ciò ho iniziato a lavorare qualche ora al giorno quindi all'inizio lavoravo per una copertiva che si occupava di educativa scolastica e per iniziare ad esempio facevo i pre e post scuola nelle scuole quindi io lavoravo ad esempio dalle sette alle otto e mezza poi giornata libera rientravo alle quattro magari il pomeriggio fino alle sei quindi ho iniziato in questo modo poi magari decidevo che il periodo estivo mi dedicavo magari ai centri estivi quindi magari facevo un mese che era più intenso e magari quello lo facevo a tempo pieno però era un mese solo quindi mesi prima mi organizzavo cercavo di arrivare al mese estivo già abbastanza organizzata per gli esami in estivi quindi secondo me la cosa importante è prima entrare all'università capire come è strutturata e poi magari dopo un semestre dire ok ho capito che l'università è fatta in questo modo e in base a come vedi tutto il bisogno di studio e come sono i tuoi orari dici ok ora potrei magari lanciarmi in questo tipo di lavoro la sera o la mattina insomma vedere un po anche in base a come ci si sente una volta entrati nel nell'ambito universitario in realtà ho lavorato un anno prima di decidere di fare la magistrale poi successivamente ho deciso di fare la magistrale in questo caso è stato un po diverso nel senso che qui sto comunque dando priorità al mio lavoro nel frattempo porto avanti lo studio di lavoro magistrale spero di comunque farlo nel tempo previsto però anche se fosse che magari ci metto un po di più comunque in questo momento lo sto affiancando il lavoro e non più incontrare come facevo in treno innanzitutto secondo me bisogna capire che fare l'educatore è un mestiere strettamente relazionale c'è tutta la professionalità di questo lavoro è proprio nella relazione educativa quindi il presupposto proprio di base è quello di voler lavorare con le persone e con situazioni comunque diverse dalla tua essere aperti essere molto dinamici essere molto flessibili e appunto saper cambiare continuamente punto di vista ed essere anche un po creativi nel pensiero se non hai questa parte dentro di te sicuramente non è un lavoro che consiglio però se invece si ha questo occhio questa attenzione questa cura verso le relazioni e verso proprio le persone sicuramente può essere un lavoro molto molto bello che ti dà tantissimo penso che avrò finito la mia magistrale quindi magari starò facendo anche magari qualche lavoro sempre nello stesso ambito magari cambiando ambiente o o ruolo proprio per il resto non ho niente di quindi particolarmente programmato e vediamo un po come va cosa succede perché comunque io il lavoro che sto facendo adesso mi piace sto imparando molto e sto crescendo molto in livello professionale quindi vedo un po' domini borto